Vi presento i cittadini di Element City. Aria. Ha sempre la testa fra le nuvole. Oh, la giacca nuova. Terra. Ha i piedi per terra. Com'è il detto? Una mela al giorno? Toglio il medico di turno. Acqua. A volte è in cattive acque. Aiuto. E fuoco. Il suo ordine, noi sono scintille. Il nuovo film Disney e Pixar, Elemental, nei cinema dal 21 giugno, rende vivi in forma di personaggi gli elementi naturali. Il regista Peterson ha ideato una città, Element City, dove convivono fuoco, acqua, terra e aria. Protagonista è l'infocata Amber, giovane donna tenace e un po' arrabbiata, che stringe amicizia con Wade, fatto di acqua e tanto romanticismo. E tra tante difficoltà se ne innamora, anche contro il volere dei propri genitori. Il regista ha presentato il film a Roma insieme ai doppiatori italiani, Valentina Romani, Stefano Di Martino, Mr. Rain. Wade è un personaggio specchio. Non è lì per insegnare niente ad Amber. Lui cerca solo di essere se stesso, un riflesso, e lei attraverso di lui vede altre parti di se stessa. Io per esempio non lo so chi sono, non so se è una cosa che si capisce a un certo punto della vita, però sicuramente le persone che incontri durante il tuo percorso, quelle che sono disposte a darti una mano nella ricerca di te stesso, in qualche modo incarnano una forma d'amore importante.